La denuncia parte dalla Fene al Will di Brindisi nella giornata di mercoledì 10 luglio in un cantiere edile, manutenzioni, ACP, ambito 14, un operaio accusato un malore per un colpo di calore. Soccorso da un collega è stato trasportato nell'ospedale di Ustuni per le cure del caso, ma le cause per il sindacato non sono da debitare solo al caldo, ma anche al sotto organico con cui questi operai si trovano a fare i conti. Noi con questa azienda dell'Acquedotto abbiamo delle grosse difficoltà proprio in merito a questa situazione. Ci sono sette lavoratori che sono fuori, sempre della stessa azienda, che naturalmente non vengono richiamati e reimpegnati, pur avendo con dichiarazioni fatte da loro, dal capofila, un arretrato di manutenzione nell'Acquedotto, che ripeto dell'edilizia è quello più peculiare perché lavora sulle strade e l'asfalto porta a centinaia di gradi, non a 35. Questi lavoratori potevano benissimo essere integrati, visto che l'organico è carente, ma addirittura vogliono fargli fare la reperibilità, una voce che naturalmente non è stata mai concordata col sindacato. Il fatto accade a poche ore dall'ordinanza del Presidente Emiliano che vieta ai lavoratori del comparto edile fotovoltaico di lavorare dalle 12 a 30 alle 16. Conoscendo proprio il Presidente Emiliano lo ringraziamo come Feneal perché di fatto con questa ordinanza finalmente mette, come quella dell'Inail, dei punti importanti. Però l'episodio di ieri è successo alle 11, quindi tutto sommato mettere dalle 12 e 30 fino alle 16 è un primo passo ma non risolve il problema perché i caldi di questi giorni possono portare un malore in qualsiasi momento.